L'astuzia di Birk colpisce ancora Palle di luce agganciata alla plancia Sayonara, stupidi presuntuosi Fuoco! Il corpo è la mamma e la nonna Abbiamo colpito in pieno la plancia Devo segnalare che l'abbiamo colpita con alcune bottiglie di birra da 33 centilitri Fuoco! Cosa c'è? Mi devi dire la verità Perché hai mandato la birra al posto delle palle di luce? Perché? Palle di luce? Quale palle di luce? Ti avevo detto di mandarmi tutte le tue palle di luce Stupido, sovietico, idiota, cerebroleso, mutante e ubriacone Capite, io avevo capito che sei di birra Stanno rispondendo al fuoco Allontaniamoci! Troppo tardi